Musica Buonasera, bentrovati pronti a cominciare insieme una nuova stagione accanto a Trentino Volley. Quest'anno abbiamo deciso di fare come mister Lorenzetti che prepara i suoi atleti già ad agosto. Anche noi ci prendiamo qualche settimana di anticipo per riscaldarci e entrare nel vivo prima dell'inizio della Superlega. Lo facciamo in compagnia di uno di coloro che ha lavorato anche quest'estate, Luca Vettori. Buonasera, grazie per essere con noi. Buonasera, buonasera. Ciao Luca. Allora, anzitutto come sta andando? Ormai tu hai più di un mese che lavori in palestra pronto per preparare questa stagione? Direi che sta andando molto bene. Non sono neanche bene più le settimane, sono state tante. Abbiamo fatto sei o sette settimane dagli ultimi giorni di agosto. Già da subito con dei focus ben precisi sia a livello tecnico che a livello tattico. e ovviamente anche tanta componente fisica, quindi di fare un grosso carico di lavoro rispetto all'estate, che comunque è stata con esercizi più vacanti e quindi recuperare sia la mentalità, sia l'esercizio fisico e anche e soprattutto la tecnica e la tattica. Partiamo subito da quella che è stata l'estate. Anche quest'anno tu hai scelto di rinunciare al nazionale, che è anche un sacrificio da un certo punto di vista. Perché questa scelta? Mi sono trovato bene l'anno scorso a fare questa scelta e mi trovo a un po' un'età, a un periodo della mia vita in cui desidero fare non soltanto la pallavolo e quindi i vari calendari anzi di tutte le federazioni possibili e immaginabili impongono da questo punto di vista a un discorso come questo di fare delle scelte e quindi personalmente l'anno scorso mi sono trovato molto bene avere questo periodo di riposo, di stacco e di rigenerazione proprio, non soltanto in chiave pallavolistica, quindi per l'anno in corso, per l'anno scorso, ma anche per me e quindi per vivermi i 27-28 anni senza fare neanche cose eccessivamente speciali, ma avere una mia quotidianità e saperla gestire quindi con degli alti ritmi oltre al campionato sportivo. Anche perché lo diciamo spesso poi i ritmi sono veramente frenetici, si comincerà la Superliga Champions League quest'anno e ne avremo modo di parlarne, però hai seguito immagino i tuoi compagni che hanno staccato anche questo bellissimo pass per Tocchio. Sì, sì, sono stato il primo fan e comunque da dentro, da fuori, ognuno credo che mi riportasse un po' la bellezza del percorso e io cercavo di fare appunto nel mio percorso, cercavo di riportare viceversa quella che era la mia estate e sono felice comunque che un po' tutti siano riusciti anche quelli delle altre nazionali ad avere dei piccoli risultati, degli motivi di orgoglio insomma e quindi oggi che ci siamo trovati è stato molto molto bello riabbracciarci insieme e quindi condividere le nostre estati. Quello che succede quest'anno insomma è la squadra è ben o male confermata diciamo nel nucleo più grosso, quindi c'è già un barrodaggio anche a livello di amicizia, spogliatoio, conoscenza anche delle abitudini dell'uno e dell'altro. Sì sì assolutamente, diciamo che il binario è già partito ed è importante rimettersi subito con queste affinità che avevamo creato l'anno scorso e credo che le energie che sono arrivate nuove siano davvero un surplus da questo punto di vista e quindi ci possiamo ritenere pronti per cominciare e essere a disposizione appunto di quest'annata che desideriamo sia altrettanto grande e forse speriamo insomma che cominci nello stesso modo e che chissà finisca in modo ancora più bello. Il resto del tuo percorso a Trento è stato in crescita diciamo fino a qui e adesso andiamo a vedere il primo servizio di questa nuova stagione che ci racconta come è composta la nuova rosa di Trentino Volley. Sicuramente rafforzata ma partendo da una base collaudata, la rosa dell'ITAS Trentino 2019-2020 non presenta grandi sconvolgimenti rispetto alla stagione passata. Si riparte dallo zoccolo duro che ha visto portare a Trento il campionato del mondo per club e la prima CHEV Cup della ventennale storia di Trentino Volley. Confermato il comparto di regia, Capitan Simone Giannelli torna a vestire la maglia giallo-blu col numero 9, a fargli da secondo anche per questa stagione Nicola Daldello, uomo di esperienza con i suoi 36 anni di una squadra molto giovane. L'opposto titolare Luca Vettori, maglia numero 7, a fargli da seconda torna a Trento uno dei giocatori più amati delle ultime stagioni, Mitardjuric. Dopo un anno difficile come giocatore per problemi di salute che lo hanno tenuto a lungo, lontano dal campo, ma entusiasmante sul lato umano visto che in estate è diventato papà di Mia, il greco torna a Trento per la sua terza esperienza all'ombra del bondone. Indosserà ancora la maglia numero 12. In attacco il serbo Urosh Kovacevic vestirà anche per la prossima stagione la casacca con il numero 93, il suo anno di nascita. In diagonale a lui lo statunitense Aaron Russell, maglia numero 2. Tra le pedine di lusso del mercato estivo, l'arrivo dello sloveno Clement Sebuli, che giocherà con il 18, completi al settore dei posto 4, il cubano Luis Sosa Sierra, maglia numero 16. Al centro non cambia nulla rispetto alla scorsa stagione, confermata la coppia Srechko-Lisinac, maglia numero 20 per il campione d'Europa, e Davide Candellaro, che giocherà ancora con l'11. A dare loro respiro la grande rivelazione, Lorenzo Codarin, maglia numero 15 per il prodotto del vivaio giallo-blu. Confermatissimi anche i liberi, il francese Genia Grebennikov, maglia numero 10, e l'altro giovane cresciuto con Trentino Volley, Carlo De Angelis, numero 8. Inutile aggiungere che anche lo staff tecnico della squadra è lo stesso della scorsa stagione, mister Angelo Lorenzetti, e sarà affiancato in panchina da Francesco Petrella e Dante Boninfante, staff collaudatissimo e rodato, che si completa con la preparazione tecnica di Alessandro Guazzaloca, il fisioterapista Alessandro Russo, il medico sociale Mauro Bertoluzza, Mattia Castello, e lo scoutman Riccardo Micheletto, il team manager. Questa dunque è la formazione di Trentino Volley, adesso con Luca facciamo un po' la panoramica su quello che è il resto della Superlega, manca ancora qualche giorno all'inizio, però insomma state guardando, immagino, anche in casa degli altri, i cambiamenti Civitanova con De Giorgio è confermata, è venuto Sokolov, cambio alla guida per Perugia, anche a Modena, insomma come la vedete quest'anno, vi siete detti qualcosa? Chi è la squadra più temuta in spoglatoio? In realtà ancora non ci siamo detti niente, sicuramente un po' ovviamente la Supercoppa sarà un campo di prova per tutte le squadre, insomma. senza dubbio le prime quattro squadre che dell'anno scorso si riconfermerebbero direi tra le più forti, ma ci sono tante altre squadre che si sono molto rinforzate, quindi penso a Verona, penso a Milano, non mi vengono in mente altre adesso, ma ce ne sono tante, insomma con tanti giocatori che anche quest'estate si sono fatti vedere per, si sono fatti valere, quindi hanno magari delle individualità di spicco che potrebbero mettere in difficoltà il ritmo e la routine diciamo di un campionato che appunto come dicevamo è molto molto serrato. Modena sicuramente si è molto rinforzata con dei grandi campioni e con comunque un nucleo di statunetensi che è sempre più bello da vedere, recisivo, quindi la stessa Perugia comunque è molto molto altissonante, Civitanova è campione in carica, insomma niente da presentare. Andiamo a vedere il prossimo servizio perché per conoscere dal vivo la squadra di Trento c'è un appuntamento da segnarsi in agenda anche a sbrigarsi perché i biglietti sono limitati, sentiamo. 20 anni di massima serie e tanti sono quelli che festeggia in questa stagione la Trentino Volley che si presenta con il botto. La serata in cui la rosa verrà ufficialmente svelata alla stampa ai tifosi sarà infatti arricchita dal concerto di uno dei gruppi italiani che stanno riscuotendo più successo mai venuto a Trento prima, i The Colors. Dal successo dell'estate, Pensare male, all'ultima hit da poco uscita Los Angeles per tornare fino al successo Sanremese Frida, Mai Mai Mai, ai brani d'esordio come Every Time, un vero e proprio concerto nel palazzo che poi si incendierà sotto le schiacciate di Kovacevic e compagni. Prima della musica saranno proprio i giocatori della rosa 2019-2020, protagonisti introdotti dalle voci di Radio 105, Elenia e Mitch. Per accendere lo spettacolo del grande volley a Trento dunque si aspettano solo i nazionali ancora impegnati nella World League, lo statunitense Aaron Russell e l'azzurro Davide Candellaro. Dopo un periodo di prelazione riservato agli abbonati, da questo lunedì 7 ottobre tutti potranno assicurarsi un posto alla serata, presentandosi agli uffici di Trentino Volle, in via Trenner 2 a Trento dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 o prenotandoli sul sito www.vivaticket.it. La partecipazione è gratuita per tutti ma i posti sono limitati. Dunque appuntamento il 18, quest'anno Luca avete molto più tempo per preparare perché poi parlavamo anche di Supercoppa, comunque si parla di venerdì a primo e di sabato di novembre quindi si comincia più tardi rispetto al solito. Sì, per noi che abbiamo fatto la preparazione diciamo che per gli altri che invece magari arrivano adesso a ridosso del campionato sarà comunque difficile. E appunto penso a Davide e a Aaron che arrivano credo il giovedì o giù di là perché la World Cup finisce molto tardi e sì, non c'è troppo tempo per ballare. Infatti dovremmo essere noi bravi in questo momento e come è stata bella e utile questa preparazione per farci appunto caricare al massimo il nostro ritmo e non farci trovare stanchi in qualche modo e far trovare loro invece nella miglior condizione per rimanere sul livello più alto possibile. Tante amichevoli abbiamo visto la scorsa settimana, anche quella con il Leiven in casa poi questo fine settimana siete impegnati in trasferta, in un torneo. Insomma non vi fate mancare già il gioco anche se bisogna aspettare a vedere le partite ufficiali? No, sicuramente adesso arrivano tutti i giocatori, tanti dei giocatori e il livello cresce tantissimo e magari le scorse settimane si preferivano a volte il gioco delle amichevoli per trovare delle altre squadre e anche un livello molto alto, molto affiatato. Credo che anche a livello organizzativo siamo stati indotti a trovare delle soluzioni perché il Palazzo Sport era occupato e quindi alla fine Mirandola è un luogo sicuramente importante da tenere a mente e le squadre che ci sono sono tra le più forti del campionato quindi è utile sicuramente per tutti. Tornando un attimo a quella che è stata l'estate, dei tuoi compagni squadri oggi sono tornati a Trento due dei grandissimi protagonisti, anzi tre in realtà perché sono i protagonisti della finale di Eurovolley come li hai visti, sono belli carichi loro? Molto, sono molto carichi e contenti di essere stati comunque celebrati i serbi quindi dischi e Urosh ma altrettanto umile e carico Clemen che è già venuto la settimana scorsa a presentarsi, a salutarci mentre lavoravamo quindi questi sono dei gesti belli, credo, delle cose su cui naturalmente si fa caso e sono dei buoni passi per iniziare e incominciare. E tu come ti senti un po' un veterano in questa stagione a Trento? La conosci sicuramente meglio di altri. Sì, sì, adesso è bello dare dei consigli su cosa visitare, dove mangiare. No, ci spalleggiamo molto da questo punto di vista quindi le nostre età comunque simili ma nello stesso tempo tanti di noi hanno delle esperienze molto belle, molto vaste penso a Simone che nonostante sia un ragazzo giovane comunque abbia un bagaglio di conoscenza molto grande e quindi per affrontare sicuramente fin dall'inizio la stagione di Trento è importante da una parte rivedere quelle che sono state le nostre due stagioni ma appunto desiderare di creare un po' una creatura un qualcosa di nuovo e di nostro insieme fin da subito. Oggi vi siete già allenati insieme come era la rivalità tra i serbi e gli italiani che si sono scontrati anche nelle qualificazioni olimpiche quest'estate tranquilli, sto scherzando io. Finchè giocavano insieme Lysinac si è attaccato molto quindi Giannelli non ci ha pensato due volte a dargliela. Allora andiamo a vedere nel prossimo servizio un po' come sono andati questi europei che tanto ci hanno fatto appassionare. Un'estate esaltante quella di Urosh Kovacevic e Srečko Lysinac che con la loro nazionale, la Serbia, hanno vinto gli europei 2019. A Parigi due giocatori di Trentino Volley si sono messi in bella mostra contro la Slovenia del neo acquisto giallo-blu Clemens Ebuli. Lo schiacciatore Kovacevic ha ricevuto anche il premio quale miglior giocatore della finale. Forte dei 20 punti siglati, 15 in attacco, 4 a muro, 1 a servizio. Bella prova anche per il centrale Lysinac che chiude la finale di Eurovolley con 11 punti personali e un bel 75% in primo tempo. Eurovolley che ha visto protagonisti in totale ben 6 dei giocatori di Trentino Volley. Oltre ai giocitati Lysinac, Kovacevic e Srečko Lysinac, i protagonisti della finale, anche Davide Candellaro e Simone Giannelli con l'Italia. La formazione di Kiko Blengini è uscita dai giochi ai quarti contro la Francia. Squadra padrone di casa, tra i cui punti fermi, c'è il libero Genia Grebennikov. Francia che ha poi chiuso al quarto posto la competizione continentale arrendendosi alla Polonia. Andiamo a sentire anche le prime impressioni dei ragazzi rientrati oggi nell'intervista di Francesco Segala. È stato molto impegnativo ma anche alla fine molto bello perché se guardiamo chi abbiamo eliminato poi non siamo riusciti a giocare la nostra miglior pallavolo nel finale però comunque è sempre una medaglia, è sempre una finale giocata ed è stato un percorso molto bello. Siamo venuti tutti qua carichi molto per fare nuova stagione, per dimostrare di più rispetto all'anno scorso. Siamo tutti determinati e questo è il più importante. Sì, state erano belle, abbiamo lavorato tanto tutti e secondo me siamo pronti. Sempre impegnativo però sono contento di vedere il staff, tu, tutta la squadra quindi sono carico per questa nuova stagione. Andiamo un po' a chiudere il racconto di quello che è stata l'estate anche delle nazionali e abbiamo detto che ci sono ancora Davide Candellaro e Aaron Russell impegnati in questa World League. Per quanto riguarda il tuo futuro, poi non te lo chiedo più, insomma, qualificazione a Tokyo 2020 ci puoi ripensare magari a un'altra estate in azzurro se servisse la squadra. Ma chissà, adesso si pensa al campionato ovviamente. Credo che per darti una risposta abbia un valore il fatto che quei giocatori si siano guadagnati quella qualificazione quindi metto questo davanti a tutto. E da altri punti di vista invece sicuramente sarà bello primeggiare come squadra quindi dovremmo essere davvero spavagli, davvero forti in questo percorso insieme e la nazionale ci spencerà. Giustamente, adesso c'è davanti una stagione ricchissima. Si comincia il 20 di ottobre contro Ravenna che tra l'altro, notizia di qualche giorno fa, il ritorno si gioca a Natale. Per voi ormai le feste non esistono più, però insomma... Sì, infatti non ho ancora avvisato la mia famiglia ma probabilmente... E poi c'è questa supercoppa, subito un test, succede ormai tutti gli anni, però insomma te lo chiedo anche quest'anno, si presenteranno un po' tutte le squadre ancora in rodaggio probabilmente? Sì, sono le stesse squadre fondamentalmente che sono arrivate in fondo l'anno scorso e le stesse che fin dal principio si sono trovate a giocare questo torneo che è un torneo sicuramente un po' strano, un po' particolare perché tutti arrivano all'ultimo minuto però altrettanto comunque è bello da giocare se vuoi proprio per questa leggerezza da una parte nel trovarsi lì e dover giocare subito al meglio con delle aspettative che cominciano quindi far presentarsi è un po' un modo di presentarsi l'anno scorso siccome ci siamo riusciti alla grande al di là della partita vinta ma proprio con uno stile un modo bello di giocare e di esprimerci palavolisticamente Semifinale a voi tocca la seconda, quella delle 18 contro Perugia subito questa rivalità che si ripropone immagino che per voi una valga l'altra affrontate quella che c'è esatto, le tre squadre sono tutte ormai rivali non si sa cosa augurarsi sono tutte fortissime credo che anche dal loro punto di vista noi non siamo da meno quindi questo ci deve fare forza e la prepareremo per che sia sicuramente una semifinale una semifinale bella e per diventare pronti a cominciare a voler giocare le finali giustamente tu mi dici pensiamo al presente però in questa prima puntata cerchiamo di fare un po' un quadro poi quest'anno ci sarà anche la Champions League voi siete reduci dalla vittoria alla Chef Cup livello che sicuramente si alza però una bella avventura provarci l'abbiamo ribadito molto l'anno scorso che la Champions League è stata una grandissima conquista e quindi come ci suggerisco oggi Angelo di tenerci stretta questa opportunità di questa occasione che ormai diventa sempre essendo le squadre sempre più forti sempre più difficile e difficoltoso anche semplicemente disputare delle partite di Champions League quindi sarà bellissimo sarà importante avere un torneo come questo dei gironi non semplici perché non saremo testa di serie quindi avere delle partite subito a disposizione in cui appunto avere delle difficoltà a trovare delle squadre molto forti e misurarci anche su questo ci interrompiamo un secondo andiamo a vedere il prossimo servizio che ci racconta di una novità di questo campionato ovvero di questa stagione un nuovo campionato quello di A3 a cui Trento prenderà parte in una collaborazione molto bella con l'Università di Trento vediamo il servizio scatta sabato 19 ottobre a Pordenone per l'Under 21 di Trentino Volley la partecipazione al nuovo campionato di Saria 3 creda in banca per la Trentino Volley che da sempre crede moltissimo e investe nel suo settore giovanile una partnership con l'Università di Trento si chiamerà infatti Unity in Volley la squadra guidata dal direttore del settore giovanile della società Francesco Conci tante delle squadre che affronteremo sono realtà professionistiche quasi tutti i ragazzi l'anno scorso hanno giocato in Serie B quindi per loro sarà un salto di categoria importante all'inizio probabilmente faremo fatica perché l'adattamento al campionato sarà difficile e richiederà del tempo ma sono convinto che già dopo qualche partita cominceremo ad essere competitivi Il progetto prevede che i giocatori del roster tutti i studenti di cui i due terzi iscritti all'Università di Trento possano portare avanti parallelamente la loro carriera d'atleta e quella di studenti per questo motivo verranno predisposte soluzioni ad hoc per consentire il completamento del percorso universitario Trentino Volley garantirà l'attività tecnico-agonistica l'assistenza medico-fisioterapica e l'assicurazione sportiva mentre l'Università di Trento offrirà il supporto nella gestione del percorso formativo accordando flessibilità nelle sessioni di esame o in caso di sovrapposizione fra le date degli esami e quelle delle competizioni o dei ritiri verrà inoltre assicurato il supporto nell'accesso ai servizi dell'Ateneo nell'adempimento degli oneri amministrativi legati alla vita universitaria e un supporto psicologico motivazionale personalizzato realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive l'Unitrento Volley giocherà le partite casalinghe alla palestra Sambapolis nello studentato di Trento e potrà avvalersi di uno staff organizzativo composto anche da studenti pronti a coprire le mansioni più disparate prime soddisfazioni sono già arrivate per la squadra nel prologo del campionato lo scorso fine settimana al Palabocchi la squadra ha infatti vinto il trofeo Città di Trento superando per 3-1 la WS Mosca Bruno Bolzano abbiamo aperto questa nostra prima puntata di RTTR Volley parlando della scelta di Luca Vettori di rinunciare anche alla nazionale per dedicarsi anche ad altro chiudiamo raccontando cosa tu hai fatto un viaggio è un progetto bellissimo che parla anche di solidarietà sei stato in Africa raccontaci un brevemente cosa hai fatto sì sono stato insieme a Matteo Piano con cui abbiamo la web radio Brado di Becchi questo progetto che ha iniziato a coinvolgere anche l'artigianato solidale e fin da subito ho pensato anche grazie a mia zia di coinvolgere l'Africa non siamo mai riusciti nel corso del tempo ormai da 4-5 anni a raggiungere queste persone se non con interposta persona delle corrispondenze e siamo invece quest'anno nella pausa di Matteo della Nazionale riusciti ad andare noi in Congo a Goma in questa città comunque noi ci aspettavamo fosse piccola un villaggio in realtà ci sono 2 milioni di persone e quindi abbiamo visitato appunto i laboratori all'interno di questo quartiere che si chiama Andoscio e abbiamo visitato non tanto tempo siamo stati là 8 giorni abbiamo avuto una grande attenzione da questo punto di vista nell'essere testimoni nel custodire questa vita quotidiana molto molto diversa dalla nostra e soprattutto cercando di dare noi il nostro volto alle persone con cui lavoriamo e con cui cerchiamo di metterci in contatto e cerchiamo di proseguire quindi sicuramente avremo tante novità e magari nella prossima puntata di RTTR te le passerò e siamo contenti insomma sia del viaggio ma anche di quello con cui siamo tornati e questo messaggio grandissimo che loro cercano di dare queste persone africane nonostante la povertà nonostante le difficoltà di questa spontanea speranza nel credere che le cose miglioreranno a volte noi occidentali riteniamo che questo forse è proprio un po' il loro peso ma in realtà è un modo fiducioso di vedere la quotidianità e la vita e credo che ci sia tanto da imparare Grazie Luca complimenti per quello che fate è bello questo doppio canale tra Trentinovole e l'Africa perché oltre a quello che fa Luca Vettori c'è anche vi ricordo la collaborazione che va avanti ormai da parecchi anni con Amref facciamo un muro contro la povertà dunque io ringrazio tantissimo Luca Vettori per essere stato con noi ad aprire questa nuova stagione in cui sicuramente avremo tantissimo da raccontare già vi racconteremo qualcosa in più tra sette giorni grazie per averci seguito buona settimana grazie per aver guardato il video